Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola Eccomi qua Oggi si cucina Un primo Delle farfalline con triglia e patate Quindi procediamo Prima cosa si va a mettere le farfalline Nell'acqua E cuociano Vai E qui ci siamo Poi prendiamo la cipolla Cipolla rossa No bianca e rosata No Si mette L'olio Il benino Ecco qui Si fa la cipolla Fine Bene Questa Anche quest'altra No Ecco qua Vai Ero intenta A tagliare la cipolla Che non ho visto che andava fuori L'acqua Ecco qui Ora si prende Si mette qui E si fa abbassire Un po' di sale Pepe Ecco qua Allora Nel frattempo Vado a prendere La patata E si schiaccia Divido in due Cos'è Guarda Ecco questa Ecco qui Tolgo Questa vecchia scura Si mette qua Si schiaccia Aggiungo un po' di acqua Alle cipolle Ecco qua Anche il resto Sale Prezzemolo Un po' di pepe Un po' di pepe Un po' di pepe Ecco qui Un filino d'olio Ecco qui Questa è pronta Andremo a manticare Con questa Cremina di patate Quando è cotta La pasta Guardiamo Le cipolle Sono quasi appassite Qui ancora un gocciolino Un po' di acqua Ecco qua Ora invece dell'acqua Ci butto un gocciolino di vino E le vado A sommare Ancora Ecco qua Assaggiamo Come sono le palle Un po' di acqua Un po' di acqua Un po' di acqua Le acco Le peste Ancora Un po' di acqua Un po' di acqua Un po' di acqua Nel frattempo Io Prendo Le triglie Sono andata All'iliopesca Ho preso Mi sono fatta mettere via Delle triglie E loro me l'hanno Pulite E silettate Si guarda Se c'è eventuali Non ci sono No Vedete Se andate E le volete Loro ve le sfilettano anche Quindi Più veloce la faccenda No Si fanno Così A fettine A pezzettini Via Guardiamo Queste qui Un po' ci vuole Però Ci siamo quasi Che perfumo Sta sfumando il vino Io prendo Le Farfalline E si fanno Cuocere Qui Si portano A cottura Qui Con le cipolle E almeno Prendano Anche il sapore Mi piace poi Quando In diversi tipi Di Di ricette Mi piace Proprio Portare A cottura A risottare La pasta Perché prende No Non c'è più niente Più sapore Si prende L'acqua Di qui Ora Ecco Ecco Qui Qui Ci buttiamo Anche le Triglie Un po' Un po' Di prezzemolino Qua Sarebbero Giappone Anche Rossi Sarebbero Un po' Sarebbero Un po' Sarebbero Agassata E poi Prendo La patata Così Guardiamo Mettiamola Sarebbero Ok Ok Ecco Ecco qua Mi sa Ci siamo Un po' Pieno Schiacciamo La patata E si dà Una saltatina Altro goccino Amalgamiamo bene Perché come si è amalgamata Tanto bene Non si fa amalgamare di più Che specialità Vai Ecco qua Pronta Spendiamo il piatto E Si mette Qui Che bontà Prezzemolo Filo d'olio E no Bono Della Pierotta E' fatto Pronto Il piatto E' pronto Così E' invitante E' profumatissimo Dovrete sentire il profumo E quindi Vi invito A provare Anche questo Il pesce Mi raccomando Andate a comprarlo Dall'Iliopesca Così Siete sicuri E ci vediamo domani Sempre qui Su TV Prato Un bacione a tutti E Buona giornata Ciao Questo programma E' stato offerto da Mar blu E' ilio pesca prato Il mare Sulla tua tavola Grazie a tutti Sulla tua tavola